buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv ci scusiamo ancora una volta perché abbiamo dovuto saltare per forza di causa maggiore la prima edizione della nostra rassegna stampa quella delle 7 perché i giornali fino alle 7 ancora non erano in edicola quindi siamo stati costretti a posticipare la prima edizione ebbene comunque abbiamo qui pronti i giornali oggi è martedì 20 agosto 2024 e procediamo subito con l'almanacco del giorno per vedere che si festeggia oggi eccolo è un santo della bibbia uno dei personaggi più importanti della bibbia dobbiamo dire samuele san samuele personaggio centrale un se pensate re davide quando era ancora piccolino fu profeta giudice sacerdote intercessore del popolo presso dio quindi una figura veramente importante per l'antico testamento vediamo ora le previsioni del tempo che continuano ad essere perturbate tempo ancora instabile con occasione per nuovi rovesci e locali temporali su tutte le marche le temperature sono stazionarie come quelle di ieri 23 la minima 26 al massimo quelle più alte e dunque i venti sulle coste con una tensione debole a ovest e sull'interno da nord est il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 6 e 16 e tramonterà alle 20 05 e allora apriamo i giornali questa mattina a partire dal corriere adriatico dove vediamo l'apertura sulla pagina di fano dedicata all'archeologia non chiudete gli scavi di piazza andrea costa è un'occasione unica per verificare quello che esiste nel sottosuolo siamo in un punto centrale dell'antica fanon fortune e non possiamo perdere questa occasione che chissà quanto quando si ripresenterà forse 300 200 300 anni ebbene l'appello questo firmato dal comitato per la salvaguardia dell'area archeologica di piazza andrea costa un appello firmato un appello espresso in una lettera è stato in vi che è stata inviata tanto al sindaco luca serfilippi quanto alla sovraintendenza alla sovraintendente delle beni archeologici delle marche ceciglia carlo rosi un appello che dice non abbiate tanta fretta andate giù scavate fino arrivare al strato romano e cercate di verificare a che cosa appartengono quei reperti che in via superficiale sono portati non stati portati alla luce andate più a fondo cercate di capire qual è la mappa archeologica di questa zona che è una zona amplissima una delle poche zone scoperte nel centro storico di fano che può essere indagata ebbene questo appello è stato firmato da personaggi eccellenti sono 180 le firme che sono che hanno accompagnato l'appello che hanno sostenuto appunto questo obiettivo ve ne leggo alcune luciano de santis il grande storico lo oscar mei il docente di archeologia della università di urbino don silvano bracci uno storico emerito della nostra città paolo clini professore universitario del politecnico di ancona aldo enzo darvini ex sindaco di fano e storico dino zattilli presidente del centro studi vitruviani giuseppina boiani tombari una delle più esperte ricercatrici e della nostra città e tanti tanti altri poi anche le associazioni il centro studi vitruviani l'archeoclub d'italia l'università dei saperi il circolo culturale bianchini il circolo castellani la libera università di pesaro la fondazione liberamente insomma ce ne sono tante altre di associazioni come tanti altri personaggi e ancora nonostante che la lettera sia stata presentata in comune e alla sovrintendenza nella giornata di ieri continuano ad arrivare altre adesioni quindi veramente si è sollevato un movimento molto molto così esteso nella città perché quell'area di piazza andrea costa venga così verificata sondata a dovere siamo a due passi da quello da quello che insomma dovrebbe essere il foro della città quindi dovrebbero esserci anche degli edifici pubblici e chissà che non si metta le mani anche in un edificio particolare e immagino vi faccio immaginare a voi di che cosa si tratta vediamo anche come il resto del carlino affronta l'argomento lo vediamo qui con un appello non ricoprite subito piazza costa appello dei cittadini a ser filippo il documento firmato da 180 persone e 10 associazioni chiede trasparenza e meno fretta con gli scavi una occasione storica e beh è l'esito di quello che quella che è stata la presentazione di questo comitato nei giorni scorsi tramite una conferenza stampa che si è svolta nei pressi di Porta di Porta Pesaro possiamo dire di di Porta Giulia anzi diciamo meglio dove appunto gli esponenti di questo comitato si sono presentati hanno presentato i loro obiettivi vediamo anche una proposta del dell'associazione del metauro comitato metauro che rilancia l'idea di utilizzare la ferrovia fan urbino per far così passare il ferrociclo cos'è il ferrociclo il ferrociclo è un piccolo mezzo di trasporto su rotaie a pedale insomma non la ferrovia lo vediamo qui in questa fotografia che potrebbe essere anche un mezzo di così di trasporto di passeggio turistico per la valle del metauro si chiama ferrociclo ed è una bicicletta ferroviaria specifica per tratte dismesse usata come appunto vettore turistico potrebbe benissimo ha detto il comitato essere attivato anche su binari dell'ex fan urbino è una tale proposta si sale a qualche anno fa però non se ne è saputo più nulla e quindi la si ripropone almeno perché questa fratta possa essere utilizzata e non abbandonata come lo è stato doppio cantiere zengarini riqualificazione al ribasso e qui in questo articolo di seconda apertura del corriere adriatico pone l'accento sui lavori che si stanno realizzando nell'area sportiva della trava in modo particolare nell'ex pista anzi nella pista zengarini dovrebbe essere realizzata la qualificazione della pista la ristrutturazione della tribuna e poi la costruzione di una nuova palestra di una nuova di un nuovo edificio indoor diciamo meglio perché più di una palestra ebbene vivrà una seconda vita la pista mentre per il recupero della tribuna e dei locali in pancia e anche per la galleria la serie dei distingo è lunga e sembra che manchino quasi un milione di euro per garantire la piena funzionalità dell'impianto insomma secondo la vecchia giunta tutto l'impianto doveva proseguire secondo un diciamo così un calendario di lavori che era stato già predefinito in realtà quando la nuova giunta ha preso l'eredità della vecchia si è trovato qualche problema un problema finanziario insomma un milione di euro non sono noccioline manca anche l'impianto fognario quello elettrico quello fotovoltaico la linea vita e i collegamenti esterni l'inventario tracciato dal titolare dei lavori pubblici di Fano Gianluca Ilari fa un calcolo tra i 750 mila e il milione di euro la somma necessaria per garantire in futuro la piena funzionalità dell'impianto insomma la nuova giunta mette le mani avanti e insomma se ci saranno dei ritardi se ci saranno anche dei problemi per il reperimento dei soldi non è colpa nostra affermano i nuovi assessori vediamo anche il risultato della birra d'augusto che raggiunge quota 10.000 da una manifestazione che ha animato i giorni precedenti al ferragosto ma nel sediosimo vince Lombree Wing Pinot Bar il gelato più buono sono le gare che ci sono svolte all'interno di questa manifestazione che come ogni anno ha attirato l'attenzione di tanti tante persone amanti appunto del gusto della birra e ha chiuso e terminata la quattordicesima edizione l'apprezzamento del pubblico e il successo di un evento improntato alla qualità è stato appunto dimostrato dalle presenze 10.000 stimate in 5 giorni e poi insomma c'è tutto un resoconto per quanto riguarda le iniziative che hanno animato la manifestazione ma un'altra manifestazione in itinere che ha avuto già al primo giorno un enorme successo è il Paese dei Balocchi il Paese dei Balocchi che ha sospeso la sua programmazione per due giorni a causa del maltempo riprenderà domani con un programma veramente intenso corredato appunto da uno spettacolo pirotecnico che quest'anno invece di essere realizzato a fine della manifestazione viene così insomma reintrodotto all'inizio di questo secondo lotto del Paese dei Balocchi chiavi del Paese dei Balocchi consegnate al nuovo sindaco con Domenico Iannacone è stata trascorsa veramente una festosa serata con 5.000 persone che hanno così frequentato il Parco Bambini del Mondo alla inaugurazione di questa ventesima edizione dopo lo stop domani si riparte veramente una marea di gente su cui diciamo così galleggiava la balena enorme la balena uno dei personaggi più mitici della fiaba di Binocchio ebbene il Parco dei Bambini del Mondo è stato frequentato non solo dai bambini ma anche dagli adulti perché questa è una manifestazione dedicata a tutti perché anche gli adulti possono tornare bambini ma poi c'erano anche delle manifestazioni adatte a loro come musica degli anni 70-80 insomma del secolo scorso che ha fatto divertire tante tante persone passiamo ora a Marotta a Marotta un incidente crolla il cornicione di un bed and breakfast vietato l'accesso alla struttura è accaduto in via Damiano Chiesa i turisti erano usciti per fortuna il ripristino sarà fatto in 10 giorni è caduto dunque un cornicione di una struttura ricettiva è crollato però per fortuna senza colpire persone ma provocando allarme dei residenti ebbene c'è stata come conseguenza una ordinanza del sindaco Nicola Barbieri che ha tenuto conto del carattere d'urgenza della situazione l'edificio sorge appena passato il sottopasso delle rane vediamo anche la pagina di Senigallia dove vediamo alla ribalta lo chef Uliassi ebbene dice Uliassi non bastano due grandi ristoranti stellati per porre Senigallia all'apice del turismo occorrono anche strutture alberghiere che siano qualificate occorrono hotel extra lusso però Senigallia non è per i paperoni insomma è una città che ambisce al turismo di massa e lo dimostra anche il successo ottenuto dalla sua grande manifestazione che è il Summer Jambori allora passiamo vediamo questo articolo che ci viene da Corinaldo BCC il valore aggiunto alla socializzazione una gita da favola tra i castelli della Baviera e vediamo qui in questa fotografia il castello del Neuschastein il Neuschweinstein che è uno dei castelli dove appunto soggiornava Ludwig il mitico re della Baviera il concetto di socializzazione è da sempre alla base del movimento cooperativo e allora la BCC di Pergola e Corinaldo i soci sono stati sempre coinvolti in iniziative di animazione e di socializzazione vediamo anche le pagine pesaresi dove si apre con il San Benedetto l'ex manicomio che veramente è in uno stato di degrado indicibile e per recuperarlo non bastano i soldi del Comune di Pesaro anche se sono tanti infatti il Comune sta utilizzando 15 milioni di euro del suo bilancio ma occorrono anche i soldi occorrono le risorse della Regione ed è questo che chiede il Sindaco Biancani dopo aver fatto un'ispezione urgente all'ex psichiatrico la Regione deve vederlo venga al sopralluogo ha detto Biancani e passiamo al problema delle antenne il problema delle antenne che ogni tanto risale all'attenzione della cronaca in questo caso vediamo che l'assessora Conti fa chiarezza sugli impianti ritenuti troppo vicini alle scuole però con distinguo ebbene premessa che la stessa assessora all'ambiente Maria Rosa Conti ritiene necessaria per intervenire sulla questione in modo particolare sulle antenne che si trovano vicino alle scuole per esempio quella della nuova scuola e quella dell'ex Pesaro Studi che ospita gli allunni delle scuole di Soria della Ligieri attualmente in costruzione ebbene la Conti si dimostra disponibile a incontrare tutte le persone che vogliono avere notizie che vogliono avere informazioni che chiedono anche che presentano anche delle istanze e quindi si cerca di contemperare quello che la norma impone cioè la necessità di coprire tutto il territorio con la dislocazione delle antenne e invece le esigenze di sanità di sutela dell'ambiente che emergono dal territorio il porto e la panoramica come una pista decine di multe abbiamo messo il freno e la retroscena del sindaco Biancani i stranieri hanno venduto la casa del San Bartolo perché c'è troppo caos per quanto riguarda le moto che scorrono sulla panoramica proseguono dunque i controlli sulla strada panoramica e tra i due porti il sindaco Andrea Biancani e l'assessore Sara Mengucci sono concordi occorre intensificare i controlli e già questa intensificazione ha prodotto un risultato in termini di multe quindi attenzione chi vuole così scorrere con le moto fracassone insomma può incorrere in questi provvedimenti tiriamo ancora la pagina e parliamo della siccità c'è stata una riunione ieri ancora del Comitato della Protezione Civile che si è aggiornato a giovedì scorso e non ha interrotto il flusso di prelievo del Pozzo del Burano nonostante il temporale questa nuova così riserva d'acqua che è caduta nel territorio ma che non è stata considerata sufficiente il forte acquazzone non è bastato le riserve degli invasi sono ancora sotto il 50% e quindi resta inalterato il prelievo del Burano se ne riparlerà giovedì prossimo forse ancora qualche piovasco cadrà prima che ritorni l'alta pressione e quindi il cielo sereno vediamo anche la pagina di Urbino un crash test per il pronto soccorso operato dalle richieste 211 accessi in tre giorni ma però funziona grazie ai reparti in attività e ai due medici dell'emergenza della cooperativa la sanità pubblica ha tenuto è stato veramente un super lavoro quello che hanno sostenuto gli infermieri e i medici del pronto soccorso di Urbino ma a proposito del pronto soccorso vediamo che non tutte le rose sono prive di spine infatti vediamo che in questo articolo del resto del Carlino ci sono proteste pronto soccorso il caso di Loretta bacino fratturato ma nessuno lo vede si tratta di una donna che è stata vittima di un incidente che si è recata al pronto soccorso con delle ferite e una frattura del bacino che però nessuno riscontra mia moglie è stata investita da un'auto dichiara il marito germano portata in ospedale e dimessa subito urlava dal dolore e non le hanno fatto la radiografia alla schiena ho richiamato il 118 il giorno dopo adesso mia moglie è di nuovo a casa tra i dolori non si può muovere io ho chiamato un infermiere per aiutarmi ma sono senza parole e beh insomma una protesta per quanto riguarda una diagnosi che sembra non abbia sortito l'effetto dovuto così almeno dichiara il marito di questa donna allora passiamo alla pagina di Fano dove si parla sempre di sanità e vediamo una dichiarazione del presidente nazionale del Siet che è la società italiana infermieri e emergenza Andrea Andreucci profondo conoscitore del sistema di emergenza quello che è un po' in crisi nel nostro territorio ebbene nella maggior parte dei casi ha detto Andreucci gli infermieri sono più che sufficienti per gestire la situazione di emergenza la regione Marche e direttore delle unità operative dovrebbero mettere nelle condizioni di operare in maniera autonoma e di erogare le prestazioni necessarie sulla base di algoritmi decisionali condivisi e beh insomma anche gli algoritmi dovrebbero essere non una operazione matematica così decisionale ma solo di supporto alla competenza e alla professionalità degli infermieri il Vambitelli a De Marchi c'è un passaggio di proprietà del parcheggione così possiamo classificarlo il multipiano di via Vambitelli il Vambitelli a De Marchi insomma c'è un passaggio di proprietà che passa dalla società Polo Holding che sappiamo tutte le traversie conosciamo le traversie di questa società il fallimento eccetera ebbene ora il Vambitelli è stato acquistato dalla società De Marchi impresa edilizia conosciuta in città fin dai tempi della Tecnoedil dove De Marchi era in società con Santilli una trattativa non lunga perché l'accordo è stato raggiunto tra le parti nel giro di pochi mesi soddisfatto anche il sindaco Ser Filippi si viene incontro alle esigenze di turisti e di residenti e poi fate attenzione fate attenzione perché questo articolo lancia un allarme ebbene ora i ladri hanno trovato un nuovo modo di rubare gli oggetti all'interno degli abitacoli delle auto senza procurare danni senza infrangere i vetri o scassinare le portiere ebbene un nuovo procedimento questa è insomma l'evoluzione della tecnica che si chiama Relay Attack è piccolo economico facile da usare niente più martelli grimaldelli o cacciaviti un'automobile con chiusura elettronica si può rubare o violare in pieno giorno con il proprietario a pochi metri di distanza ebbene lo sa bene perché ha avuto un'esperienza non poco piacevole Leonardo Vitali titolare del Pino Bar che nei giorni scorsi per ben due volte è stato preso di mira dai ladri prima volta nei confronti dell'auto di sua proprietà e poi qualche giorno dopo nell'auto della moglie sono entrati i ladri nell'abitacolo non hanno fatto danni però hanno insomma rovistato dappertutto per cercare delle cose di valore all'interno dell'auto quindi attenzioni questo metodo è estremamente efficace veloce e persino economico è un attacco informatico al sistema del KLS che va effettuato da due persone contemporaneamente una vicino all'auto un'altra nei pressi della chiave elettronica quindi sono una combine tra due malviventi che agiscono con intesa l'uno con l'altro vediamo anche gli altri articoli siamo sulla pagina di Urbino due milioni di euro per strade e manutenzioni ecco come saranno ripartiti gli importi le somme derivano da un risarcimento dello Stato per l'alluvione e dalla vendita di un terreno ebbene soprattutto la frana di Gadana sarà uno degli interventi più urgenti e strategici da eseguire con questi soldi cadono tegole dal tetto della Pascoli l'archivio di Stato chiude al pubblico il maltempo di questi giorni ha causato i danni i lavori urgenti hanno imposto un provvedimento che era inatteso concludiamo la nostra rassegna stampa con ancora questo articolo che parla di Urbino Summer Night Bands la musica giovane e qui gli assessori Ottaviani e Foschi hanno avviato un nuovo format per i giovani soprattutto ebbene si stanno esibendo ci sono esibite quattro band della nuova generazione che avranno un palco tutto per loro e sono i ragazzi emergenti quelli che vogliono farsi conoscere e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 speriamo grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto grazie a tutti grazie per l'ascolto